Take on the brownie raga e benvenuti a questo nuovo video, io sono brownie e oggi ragazzi andremo a vedere una roba che mi è successa ma ragazzi sono stato veramente ma veramente arrabbiato per quello che mi è successo perchè cristo allora vi spiego in poche parole diciamo che ho trovato su ebay questo account di fortnite cioè questo account stottoso insomma che faceva, vendeva account di fortnite ne ha venduti 27 e praticamente erano random quindi potevano apparire skin leggendarie, skin rare, skin comuni anche per dire e fatalità raga, io vado, ci ho detto ma si dai costa 5 euro proviamoci tanto vabbè dai per 5 euro una volta può andare ho detto dai cioè tanto di sicuro qualcosa bisogna trovare e cos'è successo raga? indovinate? vabbè ora ve lo mostro ma aspettate prima come sempre raga come sempre intro allora eccoci qua e allora intanto ho fatto un video perchè non lo volevo fare direttamente in webcam se no vabbè che c'era la reazione ma comunque ho preferito registrarlo direttamente sul telefono perchè se no mi toccava anche direttamente registrarlo sul telefono e la qualità era ancora più bassa quindi ho preferito no no dai lasciamo stare vabbè comunque insomma mentre si carica perchè ho registrato da quando si carica il gioco eccolo qua esattamente e si mi continuo un po' a spiegare cosa è successo ehi bro non ti dimenticare di usare in uno shop il codice creatore browniespower detto questo ti ringrazio e buona visione e praticamente si mi manda le mail e tutto soprattutto anche dopo un po' c'era scritto immediatamente ecco dopo due ore me l'ha mandata vabbè ci può anche stare ma non quello che viene dopo quello che viene dopo no che non ci può stare cioè allora mi ha anche inviato la mail mettendo la password e appunto l'email anche della casella di posta e anche quella dell'epic games ma pensa te che se uno non si accorgeva si era anche sbagliato eh si era anche sbagliato perchè aveva invertito le due password quindi rendiamoci conto rendiamoci conto ragazzi comunque eccoci qua in lobby allora già dal lobby vedevo che non avevo una skin rara era una classica skin comune mi chiamavamo king kong l-l allora vado a vedere il pass battaglia e appunto andando a vedere anche il pass battaglia io non possedevo neanche quello ragazzi cioè magari dice va bene non ha messo skin ma magari ti regalo il pass battaglia così no neanche quello cioè raga è una roba impressionante cioè neanche 10 euro neanche 10 euro per il pass battaglia eccolo qua era arrivato fino a livello 4 vabbè chissà che roba avevo solo il balletto gratis non è arrivato neanche a prendere i 100 V-Bucks gratis neanche quelli mai una gioia ragazzi mai una gioia cioè quindi pass niente proprio 0 di 0 vado a vedere va bene il negozio ovviamente la poteva essere che avesse shoppato qualcosa e fatta l'età nel negozio di oggi ma secondo me l'ha creato la sull'istante di sicuro comunque vado a vedere appunto eccolo qua non ha sciopato il pass battaglia comunque raga appunto sono comunque andato a metterlo vi ricordo anche a voi codice creatore brownies power nello shop perché comunque ho dovuto metterlo come è giusto ragazzi se volete fare delle provate codice creatore brownies power ragazzi rieccomi un attimo ho cambiato lo webcam perché sennò non si vedeva niente comunque non avevamo trovato niente in stenda e la schermata di caricamento poi neanche nelle skin neanche nei backpack nel piccone avevamo solamente quella normale e di deltaplano uno che regalava il gioco semplicemente dopo basta niente e neanche di scie neanche di scie raga di balletti vabbè almeno l'abilità del 2FA avevamo boogie down con questo e con la normale classico ma veramente altro non ha messo neanche di mimetiche raga neanche di mimetiche 0 proprio 0 cioè questo counter era vuoto ho creato così veramente raga 5 euro buttati vabbè dai per una volta ci può stare però vabbè dai vabbè comunque ci ho messo uno standard tanto per farlo anche più carino per farlo più carino pensate voi perché sennò veramente raga cioè va bene ok che non sono stato fortunato ed era un po' una ruota della fortuna ma mettere proprio nessuna skin di nessuna rarità cioè nel senso solo la skin comune a parte la skin comune neanche una skin rara cioè nel senso manco una skin di colore verde che costa 500 800 vbucks una skin veramente ma anzi anzi cioè cosa dico anche una skin comune va benissimo oltre a quella normale cioè niente proprio niente l'ha creato e basta cioè raga non lo so non so che dirvi perché veramente è stata una truffa va bene che era una ruota della fortuna ma comunque una skin la devono comunque sempre mettere almeno una almeno due balletti diversi dal 2FA o qualcos'altro ma comunque te li devono mettere questa cosa veramente non è normale quindi raga se trovate anche voi gli account che vi fanno account random no puntate più agli account che non sono contest e che non sono neanche sì che non sono contest perché se no voi spendete i soldi e semplicemente non tenete niente pensate che fanno dei contest anche a 30 euro quindi pensate Mari ci sono 5 persone spendete 30 euro 30 euro sono tanti ormai l'account ce l'ho no invece è solamente un contest che voi potete perdere quindi 30 euro buttati per niente assicuratevi che l'account ve lo danno può essere anche che sia un account rubato ma assicuratevi che ve lo danno vabbè raga questo punto è il video niente vi saluto e come sempre ci vediamo ad un prossimo video bella raga